Buongiorno, prima edizione della nostra telegiornale che apriamo con la cronaca sangue sulle nostre strade. Incidente mortale ieri sera, è accusato di omicidio stradale, mancato soccorso e fuga, la 25enne che ha arrotato e ucciso con la propria automobile, un 65enne in via Guido Gozzano ad Acireale, nel popoloso quartiere di Piazza Dante. La ragazza, dopo essere da prima fuggita, si è poi costituita. Sentiamo il resoconto da Salvo Cutoli. Investito e ucciso da un'auto in corsa. La vittima è Abramo Sciacca, detto Nuccio, 65 anni, pasticcere e da poco in pensione. L'incidente mortale, poco prima delle 20 di ieri sera, è in via Guido Gozzano, nel popoloso quartiere di Piazza Dante ad Acireale. L'investitrice è una ragazza di 25 anni che si è costituita poco dopo al comando della Polizia Municipale. La donna alla guida di una Lancia Ipsom ha centrato in pieno, il 65enne, mentre attraversava la strada, forse per una distrazione, senza prestare soccorso, a malcapitato, spirato per i gravi traumi riportati nell'impatto sul salciato, tra le braccia di un soccorritore di passaggio che ha assistito alla scena e dato l'allarme. All'arrivo dei soccorritori del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La Polizia Locale ha ricostruito la dinamica dell'incidente mortale e ha avviato immediatamente le indagini per risalire all'identità del pirata della strada, ripreso dalle telecamere di sicurezza delle attività commerciali della zona. La ragazza ha superato lo shock e si è presentata alla centrale della Polizia Locale, dove avrebbe ammesso le proprie responsabilità, evitando l'arresto. Dai rilievi effettuati sul luogo del mortale sinistro non sono state evidenziate segni di frenata sul manto stradale, evidentemente la 25enne non si sarebbe accorta della presenza della vittima investendola violentamente. La vettura sequestrata, la vedete nelle immagini, riporta segni dell'impatto sul fanale destro e lo specchietto retrovisore. Le ipotesi di reato sono omicidio stradale, mancato soccorso e fuga. Dai disposti a certamente clinici non risulta avesse assunto droghe o alcol. Ieri intorno alle 20, poco prima, anche per le condizioni della strada, ritengo, ma comunque per disattenzione, certo non per fatto volontario, una giovane donna di 25 anni ha travolto un signore di 65 anni che attraversava la strada su via Guido Gozzano. Questi in sintesi i fatti. La ragazza presa dal panico è nell'immediatezza andata via, ma appena arrivata a casa ha immediatamente chiamato le forze di polizia e si è immediatamente resa disponibile. Ha ricondotto con il padre l'autopettura qui in caserma che è stata sequestrata per gli accertamenti perché serve anche per definire in modo preciso, senza alcun dubbio, la dinamica, anche se la dinamica è chiara. C'è un pedone che attraversa la strada e che viene travolto da un'autopettura in transito. Quali sono le ipotesi di reato? Le ipotesi di reato sono omicidio stradale perché non v'è altro l'avere abbandonato il luogo dell'incidente, quindi la cosiddetta fuga e l'omissione di soccorso. Parliamo adesso dell'Etne che continua a dare spettacolo alternando episodi parossistici a periodi di relativa calma. Dall'appunto di vista estrettamente scientifico si tratta di normale attività vulcanica, come spiegano gli esperti dell'INGV di Catania. Mario Grasso Spettacolo sull'Etna ieri notte, fuoco rosso che ha illuminato buona parte della serata, sino poi a scemare nel corso delle prime ore del mattino. Un'intensa attività stromboliana prodotta dal cratere di sud-est che si è dunque repentinamente voluta in una debole fontana di lava. La fase esplosiva allo stato è già terminata, permangono sporadiche emissioni di cenere che sono disperse rapidamente dai venti in quota. Dall'analisi delle immagini è stato osservato che i due flussi lavici, confinanti in un'area sommitale, si sono già raffreddati. Uno si era diretto verso est, all'interno della desertica Valle del Bove, l'altro verso nord. Nel corso della mattinata gli strumenti hanno anche registrato il rapido decremento del tremore vulcanico e del segnale infrasonico. Tornati dunque ai livelli che hanno preceduto l'attività eruttiva. L'Etna dunque fa il vulcano e lo fa in maniera spettacolare. Si ha detto benissimo il termine spettacolo, è l'attività che secondo me ha reso famoso l'Etna nei secoli, perché è l'attività più spettacolare da vedere, quella che praticamente non crea nessun tipo di problematica, tranne appunto questa minima comunque ricaduta di cenere, generalmente nel versante orientale, perché è la zona appunto dove soffiono i venti. Quindi diciamo un fenomeno che si inquadra perfettamente in quella che è il quadro eruttivo di questo vulcano, che da settembre 2019 fa un'attività praticamente continua da tutti e quattro i crateri sommitali, con questi episodi un po' più intensi che durano un paio d'ore al massimo dal cratere di sud-est. Niente di più. Parliamo sempre delle crateri di sud-est in questo caso, però lei un po' fa accennava, in realtà sono le quattro bocche che vengono interessate alternativamente, possiamo così dire, che si producono con questi eventi parossistici. Allora in realtà in questo momento, negli ultimi mesi, proprio sono attive tutte e quattro i crateri sommitali, sia il cratere di nord-est, il cratere voragine e bocca nuova, però lì c'è un'attività cosiddetta intracraterica, cioè all'interno del cratere, meno intensa, quindi si vede in maniera più occasionale. Il sud-est, oltre ad essere più esposto morfologicamente, fa questa attività che è un po' più forte, che appunto si chiama fontana di lava, che quindi è un'attività intensa per un paio d'ore, che è quella che poi appunto ha la maggiore visibilità e un impatto un po' maggiore per la ricaduta di cenere. Vittorio, qualche giorno prima si erano registrate piccole scosse sismiche nella zona di Castiglione, Milo, eccetera. È possibile creare una correlazione con quanto è accaduto in queste ore sullo vulcano? No, ma assolutamente. Deve considerare che noi in media registriamo 200 scosse al mese, quindi quelle dei giorni scorsi erano scosse profonde, a 15 chilometri, che sono più legate ai movimenti della crosta siciliana in movimento, quindi che non hanno relazioni con l'attività vulcana. Cosa è possibile prevedere sul vulcano nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? È quello che ha fatto nei mesi passati, quindi per ora i parametri sono stabili, quindi ci aspettiamo che continui questo tipo di attività. Abbiamo una pagina dedicata al Covid e alla crisi che ha determinato sotto il profilo economico. Chiude i battenti uno storico bar di giarre, non è un caso isolato. Sono tante le attività in agonia a causa delle restrizioni dovute dalla pandemia. L'Unione Artigiani di Giarre lancia un appello alle istituzioni affinché si faccia rete per affrontare la situazione. Chiudere per non morire può sembrare un paradosso, ma al tempo dell'emergenza infinita è una necessità. Questa volta insieme alle tante attività dei più disparati settori in ginocchio, è toccato a questo bar pasticceria di giarre nel Catanese abbassare le saracinesche a tempo indeterminato fino a che non vi saranno più restrizioni dettate dall'andamento dei contagi. Una situazione drammatica avverte la ULACLAI, Unione Libera Artigiani guidata da Diego Bonaccorso. Non ci aspettavamo questa chiusura, ma dall'altro lato riteniamo che sia l'inizio di una serie di chiusure che man mano nel tempo avverranno, imboverendo così sempre di più il nostro territorio. Una scelta inevitabile per i titolari dell'attività che negli ultimi mesi hanno tentato di resistere. I ristori ricevuti fino ad oggi sono irrisori rispetto ai costi di mantenimento e di gestione di un'attività. Basti considerare che una bolletta dell'energia elettrica in media sfiora i 3.000 euro al mese. Drammatiche le ricadute occupazionali dovute alla chiusura. 15 dipendenti da oggi in cassa integrazione. Un sostegno che oltre a non essere uno stipendio completo non è mai arrivato con regolarità. I lavoratori devono ancora percepire dallo Stato le aspettanze di settembre. Quanto tempo abbiamo per intervenire? Ma io penso che il tempo sia scaduto. Si tratta di recuperare semmai sia il tempo perduto, ma soprattutto di programmare, vedere cosa fare domani. Perché qui stiamo vivendo la giornata. Non c'è più né una programmazione, un imprenditore non può fare né programmazione, né assunzione, né può prendere lavoro perché non sa se lo può fare o non lo può fare. Guardare anche il futuro perché, ripeto ancora, se dovesse continuare su questa via non lo vediamo tanto rosio. Abbiamo bisogno del supporto da parte della politica e degli amministratori che siano vicino alle imprese, che sostengano le imprese e se è il caso si mettono la fascia e vanno nei luoghi opportuni per dire che così non si può più andare avanti. E anche i centri estetici sono al collasso, saracineschi abbassate, dito appuntato contro le spereguazioni sancite dal DPCM attualmente in vigore. Sentiamo. Si sentono figli di un dio minore e ritengono incomprensibile la penalizzazione dei servizi di estetica nelle zone cosiddette rosse. Pensano invece che debbono essere riaperti questi servizi. Centri estetici tutti con le saracinesche abbassate in questi giorni e senza prospettive immediate, malgrado abbiano sempre rispettate protocolli di contenimento fissati dalle autorità. Anzi, in moltissimi casi, le misure di sicurezza adottate sono state più stringenti e rigorose rispetto alla normativa proprio per assicurare il maggior conforto possibile ai tanti, tantissimi, che ormai abitualmente fruiscono dei servizi offerti dai centri estetici, veri e propri luoghi del benessere. Rosa Maria Rapisarda è il presidente provinciale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, membro dell'Unione Benessere e Sanità. Questo purtroppo è una piaga del momento, ma ormai viviamo questa condizione da tempo. Abbiamo avuto la fortuna di riprendere dopo il primo lockdown il 18 maggio, e poi a fasi altalenanti abbiamo lavorato, ma ultimamente veramente a singhiozzo. Si parla di un lavoro a singhiozzo appunto che non dà prospettive nell'immediato. Parliamo comunque di attività di servizio che prima del Covid andavano per la maggiore. La cura alla persona oggi è uno degli obiettivi e degli impegni che ognuno di noi si pone per il concetto appunto di benessere, di equilibrio, di, come dire, quieto vivere con se stessi e soprattutto nella proiezione con gli altri. CNA Benessere e Sanità Sicilia, come già ribadito nei mesi scorsi dalla Confederazione a livello nazionale, hanno chiesto l'immediato reinserimento dell'attività di estetista, tra quelle consentite anche nelle zone rosse. Diciamo che non abbiamo quieto vivere, ma la grande nostra esperienza a livello professionale ci consente ancora di mantenerci calmi e dritti, soprattutto nella nostra posizione. Da più parti si lamenta anche una sorta di sperequazione, anche con tipologie non uguali ma simili. Assolutamente, stiamo parlando, è inutile nasconderci dietro un dito, tra la differenza e i criteri di valutazione che sono stati adottati nel decretare la chiusura dei centri estetici, hanno autorizzato i parrucchieri a continuare a svolgere il loro lavoro. Dove sappiamo assolutamente benissimo e fra l'altro sono chiaramente a norma e autorizzati a svolgere la piccola estetica, che non è tanto diversa dall'estetica che facciamo noi all'interno dei nostri istituti. E mi consenta di dire non solo i parrucchieri ma anche i barbieri, dove oggi nelle più moderne sale da barba si fanno dei veri e propri trattamenti, i barbershop, i barbieri di Sicilia. Oggi i protocolli sono molto avanzati. E uno sportello, un centro ascolto post-covid è stato attivato dall'ODA, opera diocesana di assistenza di Catania per i tanti che hanno vissuto il contagio e che necessitano di un supporto psicologico dinamico. Un soccorso psicologico per quanti abbiano contratto il coronavirus e lo abbiano successivamente superato è quanto ha promosso l'ODA, opera diocesana di assistenza di Catania, organizzando un punto di ascolto post-covid. Si tratta di un'azione gratuita e globale, estesa anche al nucleo familiare, che l'ODA mette a disposizione per aiutare chi ha contratto la malattia ad elaborare il vissuto e riprendere la propria vita. Perché fondamentalmente siamo creature sociali, quindi ci troviamo in una situazione, quella della pandemia, che ci ha gravemente isolato tutti quanti. E se questo è vero per chi non ha subito direttamente il covid, è ulteriormente vero per chi invece è stato contagiato e per chi ha maggior ragione, per chi è entrato per esempio in un reparto ospedaliero e ha vissuto diversi e diversi giorni in un isolamento che non è soltanto l'isolamento dalla propria famiglia, l'isolamento dei propri cari, ma è letteralmente un isolamento anche sensoriale. Si può pensare per esempio a chi è con i caschi che sono necessari per respirare, che si trova a soffrire di un grave problema di percezione letteralmente. E parlando con chi è entrato dentro, chi ha subito queste ospedalizzazioni, quello che mi è arrivato è proprio questa sensazione di essere doppiamente isolato. Se è isolato dietro un vetro, ha l'isolamento dietro un vetro, dietro una stanza di decontaminazione, si aggiunge l'isolamento sensoriale. Si tratta di un'iniziativa congiunta tra Oda e Arci di Ocesi di Catania. Su impulso di quest'ultima è stato quindi allestito un ambulatorio di consulenza psicologica che sarà attivo dalla prossima settimana nei locali degli uffici amministrativi della Fondazione, riscuotendo il plauso dell'arcivesco Salvatore Cristina, nonché del commissario straordinario dell'ente, l'avvocato Adolfo Landi. Lo sportello sarà attivo due volte alla settimana su appuntamento. Non è soltanto questione di essere direttamente colpiti. Infatti, come dice lei, anche chi sta accanto finisce per soffrirne gravemente. Ancora una volta, questo non vale solo per chi è parente di chi è stato ospedalizzato, ma anche banalmente per chi ha in casa una persona che è stata contagiata ed è costretta a essere reclusa dietro una porta con quella che sembra quasi una situazione carceraria, da cella, per cui il cibo si passa attraverso piccoli varchi che si aprono e nient'altro. Alberto Massimino è il coordinatore sanitario della Fondazione Oda Catania. L'Oda ha istituito un servizio che ci serve molto e servirà molto alle persone che hanno bisogno di ritrovare un equilibrio interiore emotivo e dell'anima e a questo scopo l'Oda ha pensato appunto a un servizio specifico di sostegno grazie all'intervento degli psicologi che sono a disposizione della comunità, di chi si sente e sente il bisogno di poter, come ho già detto, ritrovare un equilibrio e dell'anima ed emotivo. E oggi ancora tamponi, ultimo giorno del drive-in a Daci di Sant'Antonio per essere più precisi nella frazione di Lavinaio. In mattinata rilevati 4 positivi su 150 test effettuati. L'assessore alla protezione civile Santa Maria annuncia altri drive-in nei prossimi giorni. Vediamo il servizio di Sara Rinaudo. La media di 3-4 casi per 150 tamponi rapidi effettuati nelle prime ore di oggi. Ieri erano stati 8 i positivi su circa 400 persone sottopostesi volontariamente al covid test. Si è andati avanti senza sosta qui nell'area attrezzata di Lavinaio e Daci di Sant'Antonio dove in tanti hanno risposto all'appello di sensibilizzazione per tenere a bada il coronavirus in questa fase importante. Siamo 160 tamponi con 3 positivi. Quindi la gente è molto sensibile, sta venendo a farsi controllare. E' un momento particolare visto questo disagio di questa pandemia che sta attaccando il nostro territorio, non solo il nostro territorio, ma tutta la Sicilia. Quindi speriamo che il senso civico tra la gente, tutti i sant'antonesi che attualmente rispondono bene e stanno a casa in questo periodo di zona rossa. Una squadra ormai consolidata. Il personale USCA, la protezione civile comunale, l'amministrazione, le associazioni come la Croce Rossa con il loro prezioso costante contributo. Oggi l'ultima delle due giorni, ma presto si tornerà ad effettuare i tamponi drive-in sempre in questa postazione, anticipa l'assessore alla protezione civile Santa Maria. Diciamolo che in attesa del vaccino e comunque i tempi saranno lunghi, questo monitoraggio è l'unico strumento che si ha per la lotta al virus. Sì, noi come amministrazione siamo sempre attivati perché vogliamo monitorare il nostro territorio. Sicuramente ripeteremo questo screening fra un 15-20 giorni come c'è la possibilità con l'USCA. Ringraziamo tutti, io voglio ringraziare sia il personale associazione dei carabinieri, la protezione civile, il comando di Virgilubani e l'USCA che ci ha dato questa possibilità. E adesso una notizia ai carabinieri della compagnia di Paternò del centro anticrimine Natura di Catania in collaborazione con l'ASP di Catania e Paternò hanno denunciato zio e nipote rispettivamente di 59 e 27 anni di bel passo perché ritenuti responsabili di interruzione di pubblico servizio e maltrattamento di animali. Lo zio è il proprietario del cavallo Roberto, mentre il nipote è il fantino, vincitore della gara clandestina di cavalli che si è svolta lo scorso 10 gennaio incontrato a San Marco di Paternò. La corsa nel silenzio della domenica di lockdown non era passata inosservata agli abitanti che hanno immortalato la corsa con foto e video con animali frustati dai fantini e incitati da un gruppo di persone a bordo di motoveicoli e posti ai lati della strada. In tempo di zona rossa, sarebbe il caso di dire, accade anche questo. Trasferiamoci adesso a Giarre dove gli sfollati di via Rovettazzo protestano, disagio e frustrazione per le famiglie dopo il crollo dello scorso novembre. C'è stata prima la sistemazione in un hotel e adesso nel locale del centro anziano di via Berlinguerre. Ma monta la protesta. Vediamo. Tuno non ha cambiato affatto la condizione di disagio estenti delle famiglie di via Rovettazzo a Giarre dove lo scorso novembre si è verificato il crollo di questo balcone. Anzi, se prima questa gente viveva in una condizione seppur provvisoria dignitosa in hotel, adesso da qualche giorno il comune ha messo a disposizione delle famiglie i locali del centro anziani di via Berlinguerre, ma sono stanze e non case e con il bonus affitto non riescono a trovare un tetto. La disperazione e la rabbia prendono il sopravvento. Ci dovevano portare qua nelle condizioni di avere un po' di dignità. di avere un po' di dignità. Non ci possiamo cucinare, non ci possiamo lavare, non posso andare in bagno, non mi posso lavare i vestiti. Non c'è niente. Cioè questa non è vita. Questa è una tortura per me mentale. Io ho i miei figli che sono adolescenti. Un figlio di 26 anni, una figlia di 21. Io mio figlio una settimana fa l'ho portato all'ospedale con carte dimostrabili perché il cuore gli stava uscendo dalla bocca. Quindi io non capisco come fanno e non solo questo. Dopo 50 giorni ci stanziano un contributo perché siamo tre persone di 240 euro. In tanti hanno contribuito con gesti di solidarietà a partire dagli assistenti sociali, qualche singolo politico locale, ma è alle istituzioni preposte per l'assegnazione di un alloggio popolare che si rivolgono. Il mio appello è, io se devo denunciare personalmente l'Istituto delle Case Popolari, perché ci sta ammazzando mentalmente? Vogliamo comunque una cosa più stabile perché appunto abbiamo bambini, siamo persone, quindi una sistemazione più stabile. Ci tocca, cioè ce la devono dare. Io pagavo l'ICP per la casa, io ho pagato fino a novembre 2020, dicembre l'hanno bloccato loro il pagamento, ma devono darmi qualcosa. Non possono lasciarmi qui, non se ne possono neanche lavare le mani dicendo noi sistemiamo quelle e voi provvedete. Fondamentalmente la situazione non può durare molto perché non abbiamo qui né una cucina né un frigorifero, quindi non possiamo cucinare, dobbiamo andare dai parenti o dobbiamo comprare delle cose pronte. Bambini, anziani disabili, riscaldamento a singhiozzo e perfino cibo assalito dalle formiche. Questa non sembra essere vita. Prima di tutto, stanotte mio marito si è sentito male, non l'ho potuto portare nemmeno all'ospedale con questo virus che c'è in giro, perché mi spavento a 70 anni e sopra una sedia e stiamo soffrendo maledettamente. Lui più di noi. Che vi devo dire? Che sindaco si smuove i piedi? Se era una famiglia sua, un parente suo, che cosa faceva? Li lasciava in queste condizioni? Questo voglio dire. Ci abbiamo la vasca al bagno che perde acqua, non ci possiamo lavare, senza riscaldamenti. E adesso trasferiamoci ad Acireale, dove c'è attesa per la festa del compadrono San Sebastiano, che domani sarà vissuta in maniera particolare con tutte le limitazioni anti-covid. Definiti gli ultimi dettagli in vista della ricorrenza, stamattina c'è stata una riunione tra il Presidente del Comitato dei festeggiamenti e la dirigente del Commissariato di Acireale. In Basilica si potrà accedere soltanto previa prenotazione per le sante messe. Vediamo tutti i dettagli. Le celebrazioni in onore di San Sebastiano nel cinquecentenario dei festeggiamenti si terranno nel rigoroso rispetto delle norme anti-covid in forma ridotta e senza la partecipazione popolare che ne ha sempre contraddistinto le peculiarità devozionali tra fede e folklore con la trionfare uscita accompagnata dai fuochi d'artificio. Stamani il Presidente del Comitato dei festeggiamenti, padre Vittorio Rocca, ha incontrato al Commissariato locale della Polizia di Stato il dirigente Tito Cicero per definire gli ultimi dettagli della ricorrenza di domani stabilendo il quadro delle restrizioni esterne ed interne in luogo di culto fatte salve alle esigenze dei fedeli che potranno accedere in Basilica per le sante messe solo su prenotazione. I posti disponibili sono 120. Durante l'intervallo tra una celebrazione e l'altra sarà permesso di sostare davanti al simulacro del compatrono per un momento di preghiera personale. In chiesa si entra previa misurazione della temperatura corporea e in caso di febbre pari o superiore a 37,5 gradi non sarà possibile accedervi. E' obbligatorio l'utilizzo della mascherina, evitare gli assembramenti e rispettare la distanza minima di un metro tra una persona e l'altra. Don Vittorio Rocca assicura che non ci sarà nessuna invasione dei fedeli. Gruppi di volontari disciplineranno l'ingresso dei parrocchiani in chiesa. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Aceriale vigileranno nel rispetto delle ordinanze governative regionali. Per maggiori informazioni si può telefonare allo 095 60 13 13 o inviare un'email a basilicacolleggiata.gmail.com Ci dispiace tanto perché sarebbe stata anche la festa dei 500 anni. Avevamo previsto un grande programma. Ci rimane questo rammarico ma non è colpa di nessuno. anzi è l'occasione per chiedere l'intercessione di San Sebastiano per affrontarla questa pandemia, per pregare per tutte quelle persone che hanno perso la vita, che si trovano in difficoltà non solo a livello di salute ma anche economica. Ce ne sono tante di queste persone. Il programma sarà un programma di sole e celebrazioni liturgiche domani, celebrazioni a cui si può traccedere soltanto se si è prenotato il posto per la messa. Il santo rimarrà chiuso tutto il giorno. Faremo soltanto una diretta alle 7.30, porte chiuse, un'apertura, una preghiera e chiuderemo subito le porte della cappella. E quindi chi non ha la prenotazione a messa neanche venga domani e perché vogliamo assolutamente evitare gli assembramenti. Ci sarà la possibilità di fare una preghiera personale al santo lungo tutti questi giorni, si potrà venire in chiesa, ma domani soltanto, lo ripeto, lo ribadisco, le persone che hanno già prenotato la partecipazione. Lei si è incontrato con il commissario Cicero per stabilire gli ultimi dettagli. Sì, abbiamo cercato di pianificare tutto il programma anche dal punto di vista della sicurezza, come ogni anno. Gli altri anni la sicurezza riguardava soprattutto l'esterno, la processione. Quest'anno l'interno. E devo qui ringraziare anche tutti i volontari, i volontari delle varie associazioni accese che si sono messe a disposizione, i volontari della Basilica, in modo tale che domani ognuno possa partecipare con sicurezza, con tranquillità, con serenità alla Messa. Esattamente l'invasione dei fedeli? No, non temiamo l'invasione. Io credo che le persone, i devoti, hanno tanto buonsenso, capiscono qual è il momento, quale momento stiamo vivendo e quindi le persone sanno che non è questo il momento di invadere la Basilica come magari si era abituati. Non ce lo possiamo permettere, non se lo può permettere nessuno. Ecco perché, lo ripeto, lo ribadisco, domani sarà tutto svolto in grande ordine. E restiamo ad Acireale, consegnato ufficialmente il raggruppamento di imprese vincitore del bando e la Palavolcana di Acireale. La struttura sportiva ospiterà anche disabili, amanti dello sport e diverse società dilettantistiche interessate. Il servizio di salvagutori. Dopo una serie di gare andate a deserti è stato assegnato stamani al raggruppamento temporaneo di imprese, costituito tra l'associazione Top 5 Acireale, il centro sportivo italiano, Comitato di Acireale, nella denominazione di Acireale per lo sport, la gestione quinquennale del Palavolcana, l'impianto sportivo destinato ad accogliere le società sportive impegnate in campionato ufficiali e le diverse compagini dilettantistiche del territorio. Con l'affidamento al consorzio tramite un bando pubblico si chiude la stagione delle polemiche e si apre una nuova era sul fronte della gestione del Palavolcana, un autentico punto di riferimento per le società, non solo accesi, che svolgono attività sportiva, afferma l'assessore allo sport Fabio Manciagli, ad aggiudicarsi la gestione della struttura di Corso Italia, due giovani accesi impegnati nel sociale e nella promozione dello sport in città, Ugo Petrina e Salvoraffa, che hanno unite le loro forze per assicurarsi il management dell'impianto di Corso Italia, uno dei più capienti del comprensorio, e in grado di venire incontro alle esigenze delle diverse discipline agonistiche. Acireale ha una grande tradizione nel basket e nella pallavolo, negli ultimi anni anche nel calcio a 5. quel gruppo di imprese a giudicatario apre ai disabili attrezzando appositi spazi dedicati. Ugo Petrina, presidente dell'associazione Top 5 Acireale. La città è affamata di sport, sia sport amatoriale, che sport federale, che sport giovanile, che sport appunto per disabili. Lo sport deve essere inteso appunto come sport a 360 gradi. Chiaramente questa pandemia ha acuito la fame di sport e la necessità di tutte le persone che, chiuse a casa per via appunto di queste restrizioni, hanno voglia di intraprendere un percorso sportivo di qualunque livello e di qualunque tipologia. Il complesso sportivo del Palavolcana può ospitare non solo eventi sportivi, ma anche manifestazioni ludico-recreative ad ampio respiro e nelle strategie della nuova gestione si profila un'attività parallele di interesse collettivo. Come centro sportivo per la prima volta ci affacciamo anche alla gestione di una struttura al coperto. Di solito ci siamo sempre occupati di campi, di campi all'aperto. Questa è una struttura, ecco, l'amministrazione l'ha individuata come una struttura ad alto potenziale commerciale. Al di là di questo, io credo che questa struttura rappresenta, ed è l'unica di fatto, rappresenta un fiore all'occhiello della città e per la città. Tale deve rimanere e credo che in questa nuova gestione la mission non cambia. Questa struttura sarà sempre più aperta alla città, aperta alle società sportive, a coloro i quali ovviamente ne faranno e ne fanno richiesta, con, diciamo, ovviamente un'attenzione anche a quello che è lo sport amatoriale, lo sport che è sempre più vicino anche al centro sportivo, al CSI. Ci fermiamo, si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale, la prossima più tardi in diretta a partire dalle 19.45. Vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni meteo. Buon pomeriggio. Giornata di sole su gran parte della Sicilia, prevista per il 20 gennaio 2021. Qualche nube soltanto nell'entroterra, il sole splenderà invece sia a oriente che a occidente, i mari saranno calmi. Temperature previste nelle medie stagionali, anche se le minime saranno piuttosto basse. A Catania si andrà da 6 a 15 gradi di massima, meno 2 invece nell'entroterra ad Enna, 0 a Caltanissetta, 15 gradi di massima invece a Palermo. A Catania si andrà da 6 a 15 gradi di massima,